Grazie a tutti. Ringrazio il relatore e il Presidente anche il momento importante di confronto di questa sera. Abbiamo detto che l'agenda digitale europea prevede entro il 2020 per i Paesi dell'Unione una copertura di banda di 30 megabit e il 50% dei cittadini connessi a 100 megabit. Oggi in Italia l'80% dei cittadini è connesso tra 2 e 10 megabit, mentre contro il 45% circa dell'Europa. Quindi noi abbiamo una scarsa velocità, ma anche perché abbiamo scarsi investimenti nella connessione di fibre. C'è sicuramente una possibilità di miglioramento legata all'utilizzo del mobile e in particolare con il Wi-Fi. Quindi c'è una bassa percentuale di cittadini connessi a Internet, per cui le bellissime immagini del relatore sono poi complicate per quel che riguarda il nostro Paese da questa scarsa qualità e diffusione delle infrastrutture. Però io sono convinta che prima ancora dei finanziamenti serva cambiare i modelli organizzativi e la cultura digitale. Infatti l'Italia ha questa dotazione insufficiente, ma nello stesso tempo ha una sovrabbondanza anche di vari investimenti che non sono coordinati tra di loro. Da questo punto di vista mi sembra una iniziativa importante quella del Governo e del piano della crescita digitale e dell'idea anche di riorganizzare sostanzialmente l'investimento sulla banda ultralarga attraverso la suddivisione per cluster. Ma la verità è che bisognerebbe soprattutto affermare questo principio del Digital First, ovvero avviare un percorso di squish off dall'analogico cartaceo al digitale, con una data definita anche come quella del passaggio al digitale terrestre, attraverso anche una progressiva penalizzazione nell'uso del cartaceo. Questo consentirebbe una riforma della pubblica amministrazione che sia effettivamente una sburocratizzazione attraverso l'utilizzo del digitale perché in questo modo il lavoro potrebbe essere organizzato per processi nella logica ovviamente del modello sharing, ovvero collaborativo, secondo l'idea anche prevista nel piano di crescita digitale della cosiddetta Italia Login, ovvero tutti i cittadini che accedono attraverso un'unica identità digitale anche riorganizzata attraverso l'interoperabilità. Questo credo che dimostri che il tema degli investimenti è vero ma fino a un certo punto va cambiata la mentalità, va cambiata anche i modelli, in questo modo si cambiano anche i modelli di business delle imprese e praticamente si può sostanzialmente mettere in pista attraverso una diversa competitività quella che il relatore prima chiamava deregulation che però implica ovviamente contemporaneamente, lo diceva il Presidente nella introduzione, una nuova organizzazione normativa dei diritti. E a proposito di organizzazione normativa io credo che bisognerà andare anche sostanzialmente nei singoli paesi a una organizzazione anche di un disegno di legge per la crescita digitale che possa prevedere contemporaneamente gli investimenti e il coordinamento della rete ma anche l'impulso verso sostanzialmente questo switch off al digitale. Grazie. Grazie.